Buonasera, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini. Ci sono materiali dispersi in A1, il tratto interessato è tra Arezzo e Val D'Arno, una perdita accidentale. Vento forte su molte strade e autostrade, segnalata in A1 tra Sasso Marconi e Chiusi, in A11 tra Firenze e Pretola e Pisa Nord. Miniamo ai treni, il 41-21 Firenze chiusi è stato cancellato per circolazione nel nodo di Firenze. Viaggiatori con il 41-13 Firenze-Orte. Sempre per i treni, i lavori al viadotto sull'Arno dell'autostrada, non compatibili con la circolazione dei treni a punto, comporteranno un'interruzione del traffico ferroviario nei giorni 4 e 5 gennaio. Infine il Consorzio Lamma prevede per domani cielo sereno poco nuvoloso, nelle prime ore della notte possibili deboli nevicate sull'Appellino. È tutto, buon viaggio grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.